Dal ventre e dal sesso, che cosa significa pensare? Commento Pensare è usare la penultima parte dell'essere umano, che è il corpo mentale. Pensare è già vivere in un mondo superiore, dove non giunge la vibrazione pesante della folla e dove si può intuire una realtà più vasta. Il piano del pensiero è nobile e creativo rispetto al piano inferiore, il piano astrale, dove la vita è occupata dal ventre e dal sesso.